Sono pronti gli studenti del liceo Alfonso Maria Deliguori di Acerra, pronti e preparati per il quinto certamen Acerranum che si terrà venerdì e sabato prossimi. In gara più di 110 studenti provenienti dai licei classici e scientifici di tutta Italia si sfideranno nella traduzione di un brano tratto dalle georgiche di Virgilio, corredata da un commento che non solo analizzi il passo ma ne attualizzi il contenuto. Credo che il messaggio ambientale di Virgilio sia quanto mai attuale, in realtà Virgilio celebrando la figura dell'agricoltore all'interno delle georgiche, di fatto cerca di invita tutti quanti a ristabilire quel rapporto originario, primigenio con la natura e quindi ristabilire quell'equilibrio che a me è stato perduto. Quanto ha in latino? 10. Fare spazio a queste eccellenze, non soltanto campane ma anche nazionali, è allo stesso tempo di accendere un po' un far su una problematica tipicamente acerrana ma non solo. Senza dubbio si può definire Virgilio un poeta dell'ambiente. Sabato 24 la premiazione che prevede l'assegnazione di borse di studio. Il primo classificato parteciperà di diritto alle Olimpiadi nazionali di lingue e civiltà classiche patrocinate dal MIUR. Ma l'obiettivo principale del certamen è formare donne e uomini consapevoli che il progresso passa anche attraverso la conoscenza della propria eredità culturale. Per studiare il nostro tempo abbiamo bisogno dell'aiuto dei classici, anche dell'aiuto dei classici.